c'è bisogna fare un rito c'è scritto ok siamo pronti ok possiamo andare si è svegliato aiutatemi ho paura ho paura venite cazzo sei incazzato stai calmo è sempre kundi ragazzi col fuoco col fuoco perde molta vita oh c'hai gli occhi rossi stai scherzando aia aia son morto ah non faccio il mongolo che calcio che mi ha tirato sto infame l'ercio oh ma uccidilo però e noi l'abbiamo ucciso e noi l'abbiamo ucciso al primo colpo al primo colpo al primo colpo teeeack ragazzi però eravamo in dire però eravamo in diretta quindi salutate tutti ciao 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 Grazie.